Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video che è una giornata che voglio bloggare e spero che vi piacerà il video e volevo dirvi che mancano 4 giorni a Natale e io sono contenta perché amo il Natale, mi piace divertirmi, passare con la famiglia, parenti e tutto se vi piace, voglio che mi commentate, voglio sapere se vi piace stare a Natale con la famiglia e spero che mi iscrivete ragazzi questo è il mio albero, l'ho fatta tutta da sola questo qua è il presepe che ha fatto mio fratello e abbiamo già la roba di Natale perché siamo vicina a Natale e spero che vi piaccia il mio albero guardate quando le luci brillano di più sono una figata con la luce spenta guardate guarda che bella con le luci spente amo l'albero di Natale con tutte queste luci è bellissimo se vi è piaciuto il mio albero voglio che mettete un like e iscrivetevi al canale al prossimo vlog ciao ciao ciao